Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Continua il caldo intenso, seppur in tono leggermente minore rispetto alla giornata di ieri. Lunedì 2, persistono condizioni di caligine diffusa con ancora la possibilità di picchi superiori ai 40 gradi nelle pianure più interne, venti in rinforzo dai quadranti nord-occidentali sui litorali tirrenici e sul basso Ionio. In conseguenza di ciò i bacini occidentali dovrebbero divenire mossi poco mosso lo Ionio. Pochi cambiamenti per martedì 3 agosto, ancora tanto caldo, valori diurni prossime ai 40 gradi nelle pianure del Cosentino. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento al prossimo aggiornamento.